Grazie. Adesso siamo arrivati un po' al titolo del disco che è Fuga per Art perché adesso avete ascoltato interpretati da noi con i nostri inserimenti di modernità necessari dal mio punto di vista però avete ascoltato più o meno gli arrangiamenti del quintetto di arte. Adesso vi suoniamo un brano che si chiama Fuga per Art e che è il titolo del disco e che è una fuga, una composizione in forma fugata diciamo in senso moderno, in senso classico ortodosso che ho scritto pensando a lui ma anche soprattutto al pezzo che segue che praticamente è composto da questa cellula che ha ispirato la composizione di questa fuga. Il pezzo che segue si chiama Let Yourself Down, quindi Fuga per Art e collegato Let Yourself Down. Grazie. 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 Grazie.